Sulla figura di Rasputin potete leggere molte cose, non esprimerò qui un giudizio certamente sulla sua personalità, mi piace però ricordare il fenomeno, ovvero che anche nelle strutture politiche più complesse che si credono assolutamente impenetrabili c'è sempre quell'elemento di pazzia, di follia, comunque di non governabilità che riesce a farle saltare, questo è stato Rasputin per la monarchia zarista, questo succede costantemente anche oggi nelle grandi democrazie dove c'è sempre un elemento imprevedibile che riesce a scompaginare tutte le dinamiche previste e più piccoli e più folli sono, più grande spesso è il danno che riescono a provocare.